L'auto perfetta per chi cerca spazio, comfort e sicurezza, unite ad un design sportivo. Il passo lungo con sbalzi corti, la linea ribassata del tetto e i cerchi più grandi di una misura danno maggiore movimento alle proporzioni dell'auto. La linea moderna e filante del frontale, che dal cofono motore si congiunge al parabrezza abbracciando il montante anteriore, insieme alle spalle pronunciate della carrozzeria, sottolineano l'immagine sportiva di classe B. Queste forme conferiscono a classe B un'aerodinamica con un CX record di 0,24. La nuova generazione punta alla sportività, ma l'abitacolo si è ingrandito rispetto al modello precedente, a vantaggio della spaziosità e della visuale a 360 gradi. Il divano posteriore può essere, a richiesta, mosso di 14 cm e lo schienale portato in una posizione più verticale, così da poter riporre carichi ingombranti nel bagagliaio. La capacità del vano bagagli dietro i sedili posteriori può così variare da 455 a 705 litri. Con lo schienale ripiegato e caricando i bagagli fino al tetto, il vano di carico ha una capacità massima di 1540 litri. L'avvolgente design degli interni sorprende grazie alla sua spaziosità e ai materiali di altissima qualità. Il nuovo disegno dei sedili e la posizione di guida rialzata contribuiscono ad offrire un accesso più agevole e una migliore visibilità per il conducente, che si trova al centro di un'esperienza di guida immersiva, resa unica dalla nuova plancia caratterizzata dai due display con un'ampiezza massima di 10,25 pollici. Inoltre, sempre più spazio per la testa e le gambe, climatizzatore automatico, luci ambient, sedili posteriori frazionabili, pacchetto vano di carico. Il rinnovamento prosegue anche a livello tecnologico, con l'intelligenza artificiale MBUX al completo servizio del guidatore, personalizzabile con diversi equipaggiamenti, tra cui la realtà aumentata che rende possibile visualizzare le informazioni grafiche di navigazione e le immagini live, oppure la dashcam che filma e salva la situazione del traffico registrando anche l'ora e la velocità. La classe B è disponibile in quattro diverse versioni, Executive, Sport, Sport Plus e Premium. Quattro diversi stili che soddisferanno i clienti più esigenti, ricca di equipaggiamenti di serie già dalla versione di ingresso. Tecnologica, grazie a MBUX con funzioni avanzate, comandi vocali intelligenti e funzioni predittive, strumentazione completamente digitale da 7 pollici e display multimediale con stili personalizzabili, classico, sportivo o essenziale, touchscreen e touchpad con interazione intelligente, Mercedes-Me con servizi di accesso remoto setup e monitoraggio vettura e predisposizione per car sharing privato. Sicura, con i sistemi anti-sbandamento attivo, di rilevamento automatico del limite di velocità, di assistenza alla frenata attiva, traffic light view e alla telecamera per la retromarcia assistita. Attenta all'ambiente e piacevole da guidare. I motori benzina e diesel sono efficienti e rispondono alle più recenti normative e il nuovissimo 250 e EcoPower, ibrido plug-in con 218 cavalli di potenza complessiva e un'autonomia elettrica di 77 chilometri. Nuova classe B, emozione, sportività e comfort a bordo. Tutte le carte in regola, per soddisfare anche i guidatori più esigenti.